Fu inserita insieme ad altri 5 comuni nella zona rossa dell'area Vestina e oggi Montebello di Bertona festeggia per i zero contagi positivi al Covid-19 sul territorio. Sono tutti clinicamente guariti, gli ultimi tre sono in fase di riabilitazione all'ospedale ma usciranno la prossima settimana, così come ci ha annunciato il sindaco Gianfranco Macrini. Siamo il primo comune con zero casi qui a Montebello della zona rossa, è veramente un bellissimo risultato. Prima la sera avevo sempre un magone perché mi arrivavano ogni sera notizie di un positivo, però dall'ultimo positivo l'abbiamo avuto il 30 marzo e da quella data non abbiamo avuto più positivi. Tutti guariti clinicamente, solo tre sono ancora in ospedale per la riabilitazione, però la prossima settimana dovrebbero tornare a casa, poc'anzi il dottore mi ha garantito che torneranno a casa, quindi tutti guariti. Soddisfazione per il sindaco che da lunedì potrà rivedere le proprie attività sul comune aperte, dopo le operazioni di sanificazione lentamente la vita riprenderà anche nel centro dell'alta area vestita. Lunedì ripartirà quasi totalmente le attività, adesso i negozi stanno facendo la sanificazione, ripartirà tutto, le aziende che lavorano sul nostro territorio, che sono parecchie per la ricostruzione del sisma 2009, qualcuno è ripartito già questa settimana, ma la maggior parte ripartiranno tutta la prossima settimana. Noi stiamo lavorando come amministrazione per nuove gare d'appalto, tra cui è in atto una gara d'appalto per la scuola, per l'ultimo lotto della scuola in erente il sisma 2009. Il lavoro è abbastanza consistente, io sto accelerando un po' l'iter perché per la riapertura della scuola vorremmo riconsegnare totalmente la scuola e consegneremo anche una sala polifunzionale ai ragazzi della scuola.